Apparentemente chiusa da due anni, all'interno la polizia di Gela ha scoperto centinaia di parti sia meccaniche che elettroniche di auto, senza regolare documentazione dunque di probabile origine furtiva. Il proprietario, un uomo di 46 anni, è stato denunciato per ricettazione. Si tratta di una rivendita di ricambi di auto che insiste in via Settevarine. Su disposizione della Procura della Repubblica, gli agenti, diretti da Francesco Marino e coordinati da Massimiliano Santoro, hanno accertato che alcuni blocchi motori presentavano evidenti segni di punzonatura nella parte del codice numerico. Occultati sotto altro materiale, sono state rinvenute numerose centraline elettroniche prive di documentazione. Indagini sono state avviate per verificare la presenza del materiale e eventuali collegamenti con la base operativa sequestrata lo scorso 2 maggio. Sempre la polizia ha arrestato un pregiudicato di 29 anni per falsa testimonianza e spaccio di droga. Si tratta di Giovanni Simone Alario. Deve scontare 3 anni, 4 mesi e 27 giorni di reclusione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Gela. Denunciati 4 gelesi. I reati contestati sono sostituzione di persona, falsa attestazione al pubblico ufficiale, truffa, diffamazione e omessa comunicazione all'autorità di polizia per lo svolgimento di un pubblico comizio e ricettazione. Manette anche per Gianluca Parisi, 33 anni. Lo hanno arrestato i carabinieri in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Novara. Deve scontare 2 anni e 6 mesi per furto aggravato. Adesso è recluso nel carcere di Contrada Balate. Adesso è recluso nel carcere di Contrada.